E' Santo Palme, nuovo direttore sportivo del Ragusa, volto noto nel panorama calcistico siciliano e arriverà in quest'ora in vista della gara di ritorno di Coppetali di domani a Paternò. Gli azzurri provano quindi a girare pagine e si affida ad un professionista che in passato ha ricoperto il ruolo di DS nella Cireale, nello Scordia, nell'Atletico Catane e nell'Aci Sant'Antonio, sempre in eccellenza. Franco Pluchino, dal canto suo, si occuperà invece alla direzione generale della società. Saremo molto attivi sul mercato, le prime parole di nuovo DS, abbiamo molta strada da recuperare, ma la sfida è anche stimolante. Poi Palme ricorda che domenica prossima c'è lo scontro salvezzi in casa dell'Adrano, diretta concorrente per evitare la retrocessione. L'occasione quanto mai propizia, dice Palme, per cercare di recuperare il terreno perduto. Domani quindi Coppetali a Paternò, gara di ritorno dopo l'1-0 subito a Ragusa all'Aldocampo. Ragiti dovrà fare a meno di Priolo e Rimaudo, entrambi infortunati. Si spera di recuperarli domenica prossima ad Adrano. Ragiti che anche salutato, con soddisfazione all'arrivo di nuovo DS, certo ha dichiarato che dare una grossa mano per tagliare il traguardo. Da tutti ha auspicato.